ciao a tutti oggi prepareremo il sorbetto al basilico il tempo di preparazione della ricetta è di circa tre minuti gli ingredienti sono basilico cubetti di ghiaccio limone mandorle e zucchero semolato diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e le mandorle e andiamo a tritare per sette secondi a velocità 10 prendiamo con la spatola sul fondo andiamo ad aggiungere le foglie di basilico il limone e il ghiaccio chiudiamo col coperchio e andiamo a tritare il tutto per un minuto da velocità 6 a velocità 8 spadolando quindi andiamo inserire la spatola e facciamo partire il bimbi prima a velocità 6 e poi lo porteremo sino a velocità 8 il nostro sorbetto è pronto andiamo a riempire i nostri bicchieri sorbetta al basilico grazie e alla prossima ricetta dopo aver preparato il nostro sorbetta al basilico adesso andremo a fare una piccola variante che lo farà divenire sgroppino al basilico andremo ad aggiungere della vodka al limone chiudiamo il coperchio col misurino e andiamo ad amalgamare il tutto per 10 secondi a velocità 10 il nostro sgroppino è pronto andiamo a riempire i nostri bicchieri sgroppino al basilico grazie e alla prossima ricetta ciao